Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Siamo qui con quei due sul server Eccoci qua E siamo su Minecraft Arena Praticamente dobbiamo sfidarti Sarò io contro loro due Loro dovranno cercarmi e distruggermi Non troppo pesantemente si spera Ho 5 minuti di tempo per sopravvivere Quindi scappare ed evitare che mi uccidano Oppure ucciderli a mia volta In questo caso avrò vinto Altrimenti farò la walk of shame Per tutta la mappa alla fine dell'episodio Oh oh Noi la mappa ovviamente non la conosciamo come di consueto Ed è una sorpresa tanto per noi quanto per Surry Sì esatto Però Surry è stato bravissimo a dire le caratteristiche di questa arena Preciso, puntuale Se ne sono iniziare a giocare Ok, esatto Allora vi ricordiamo che potrete vedere questo gameplay Su tutti e due i canali Quindi sia sul real power Che su quello sul server 2 Esatto Esatto Perché ad un certo punto una volta entrati nella mappa Io e loro ci muteremo In modo che Sì Insomma Tutti possono farsi cazzi loro Sì esatto Ti metti poi io capisco dove sono loro La banana capisce dove sono io E poi non ci può più fare la macedonia Quindi è questo il problema Esatto Esatto Macedonia che è vicino a Bari Esatto Adesso io direi di entrare nella mappa Che è questa Collaborator's jail Sì Allora scegli tu come di consueto lo spawn Poi cambiamo Però la prima volta la scegli Ok Allora ne andiamo in B Come si fa? Devo cliccare qualcosa Ah ok Sciallo Sì Poi c'è il kit straniero E' kid qdss Ovviamente tu devi prendere il kit straniero Sì ma Ok Sei entrato? Sì Ah figo Mi è dato automaticamente Ho avuto cliccare niente Sì 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 Eh questi sono Mi sta Ah minchia provate Sì 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 Guarda qui c'è anche la piantina Hanno fatto la piantina della mappa Sto giro Io non ci credo Ah perché c'è un rip Mike? Povero Mike Non lo so Sono diverse Non credo Mike Shaw Allora Ma qua è pieno di prigioni Ma Ok Noi non la conosciamo la mappa Quindi non abbiamo idea di quello che succederà Sappiamo che Ti dobbiamo uccidere O tu devi uccidere noi E in giro ci sono un sacco di casse Che eventualmente Puoi raccogliere anche tu Ah ah Quindi pozze varie Insomma c'è di tutto Siamo nell'ufficio del direttore Direttore Nido Va bene Allora io direi 3 2 1 e ci mutiamo Ok Ok Poi parte direttamente il timer Ah ah 3 2 1 Sound muted Oh allora E si parta Allora Io direi che Come al solito Ti conviene trovare le casse Ci è andata bene Con Murray Che dici tu Eh ma questa è più labirintica La vedo molto No ho messo Ho messo la spada dentro Vaffanculo Al quadro È molto più labirintica questa qui Eh Che cazzo ma sono proprio celle La prigione dei collaboratori Guarda guarda Madonna ma quanto cazzo è grosso Dove sei? Io t'ho perso già No 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 Vieni qua vieni qua Hai trovato qualche cosa? No Lo sto cercando però Vieni di qua vieni qua Di qua che vuol dire? Di qua da me Ok Perché è qua che si apre là Qui c'è una porta oscura Perché vibro? Vieni qua c'è una porta oscura Dove? Vieni qui Ok Sono sicuro che qua c'è qualcosa E infatti Ottimo Che c'è? Cazzo Un cazzo Indistrettibilità Aspetta 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 Potenza 5 Tesoro di boneggio Che cazzo è? Ma mica si può picchiare con sta cosa? Oh Quanto ti ho tolto? Non lo so Niente Non serve a niente Serve a un cazzo sta cosa O forse serve Ma dobbiamo tipo metterla in mano No no Dai che è tardi Già un minuto è passato Non abbiamo trovato niente Eh Questa volta c'è poco da spiccolare Qua c'è un'altra parte nera C'è l'antesca Porca vacca Niente È un macello È un macello Qua si può nascondere dove vuole Cavolo Ce l'abbiamo vicino eh Dove sei? Dove sei? Dove sei? Vi è vicino a te Vicino a te Qui qui vieni Che c'è qua dentro? Niente 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 Da nessuna delle parti No no A meno che non si possa distruggere il muro Questo non lo so Qui 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 No è chiusa Eh ma è un casino qui eh È veramente un casino Ok no Non ci danno niente Ma perché non c'è niente? Allora sono due minuti già Non abbiamo un cacchio E non sappiamo Questa è la situazione di cui ti parlo io Quando non trovi la ceppa Eccola Oh meno male Ok ok a posto Oh grande Che c'è? Veleno? Tutto veleno? La spada affidatezza 5 è spettacolo Ok Diciamo che adesso possiamo trovarlo e ucciderlo Vieni qua Andiamo Adesso è caccia grossa Aspetta che ho Ho dei cosi La cosa che mi da fastidio è che se C'è una leva qui No Ah è una trappola È una trappola Ok Io non lo vedi in giro? No L'ho visto prima per una frazione di seconda Ma quello si Eccolo 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 Ok ok andiamo Muoviti piano Muoviti piano Eccolo eccolo L'ho visto l'ho visto A sinistra Vai vai Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Salta salta Fai come lui Sta arrivando indietro Sta tornando indietro Sta tornando indietro Aspetta aspetta Gli hai buttato la pozione Sì l'ho preso Aspettami Aspettami un attimo Eccolo Sì No Ok Uccidilo Uccidilo Finiscilo No ma Guarda No Ma che Bastardo Avevi la pozione di forza Scommetto Sì Maledetto No No non ce l'avevo Minchia ma c'hai tritta Ma c'hai tritatissimo C'hai Quanti minuti Un minuto e mezzo Due minuti Tre minuti Sono passati Ma noi siamo andati a spazio Ho battuto Stepney Che merda Ma questa è difficile Sta mappa Perché noi non troviamo Una sega Proprio Mi sono preso in faccia Proprio secco Bravo Surreal Ti sei fatto rispettare Sulla mappa Bella Bella Però adesso Ti dobbiamo rompere il culo Per forza di cose Esatto Cerchiamo di tornare A fare le cose seriamente Poi la rivincita Allora adesso Noi spawn A Tu spawn B Ah fai Barra suicide Si ti ammazzi E torni qui Suicide Si è tolto la vita Perfetto Ho fatto ora a Kiri Perché Di qua Ho finito a finire Prima di tre minuti No vabbè dai Sei stato bravo Sei stato bravissimo Ci hai inculato alla grande Eh perché Immagino che nel tuo gameplay Tu abbia detto Finisco prima di tre minuti No 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 Io scavo per tutti e cinque Ah ok Beh ti fa onore Sei ultra sgravo Sei ultra sgravo Allora andiamo Noi Tu guardate nell'A o nel B? Nell'A E sì Ok 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 Adesso si spera Dove è Mike Freary non aveva Con la mappa Hit straniero Non aveva con la mappa Vabbè Noi ci mutiamo fra Tre Ok Due Uno Perfetto da dopo raga Ciao Via Dai 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 Subito subito Alla ricerca qua Dove sei Andiamo insieme però Questo ha aperto tutte le celle Già t'ho perso Sono alla terza cella Appena esci E sono entrato nel muro Per vedere se c'è qualche cosa Surreal sta già arrivando Nasconditi 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 Quello ci viene ad attaccare Perché ha capito Il punto è che non so dove sei Se ti nascondi Allora ho preso il veleno Ma te la porto Ho l'armatura anche Ma sai dove sono? No Allora come me lo porti? Fermo Aspetta che ho trovato una chest Allora Cestati anche tu Io Però non ti muovi perché ti vede Ok ci sono E dentro qua Dentro l'acqua ci sta? Sì però ho preso già tutto Spada di diamante E un arco sgravo c'era Ok Allora tu lo puoi shottare? Da lontano Non lo so Vediamo l'arco com'è Eccolo 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 Ci ho visto Ci ho visto Ci ho visto C'ho la porzione di veleno più 2 Ho l'arco col fuoco C'è il cavolo Ma tira Ma tira Vicinissimo Fammi andare a me Che c'ho la porzione In mano Eccolo No Ok Cazzo Ma ha preso anche lui A me Però non toglie niente Ha preso anche me Che cazzo c'hai Le frecce infuocate No ce l'ho io Però mi ha preso pure a me Col veleno Eh no ma non serve Tanto siamo pieni Da solo fastidio C'è le frecce infuocatissime Sì Diamogli fuoco Diamogli fuoco Dai 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 Non è facile colpirlo Con Quella visuale che trema così Salta salta Sì salta Oddio che fastidio Il veleno di merda Eccolo Dai 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 Ti lascio la visuale libera Preso Bella cacchio Bella Grande Il cecchino Sinergo torna a colpire Si è spento già Cazzo Porca troia Allora Dai Guarda quanto c'è culo Non so quanto Perché si è fermato Aspetta Aspetta No sta laggando Lagga bestia O lagghiamo noi Lagga lui Lo so Qualcosa lagga Dietro di me Dietro di me Mattene 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 Ah ma hai preso Scusa No No cazzo Non riesco Ok Chi c'hai tu No 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 Prendi la mia spada di diamante Eh sì E come faccio Merda No No E che cazzo No no 2 a 0 Guarda Sei imbattibile cazzo Però sei stato sculato Perché a un certo punto Ha laggato il mondo Sì ti abbiamo visto Ti abbiamo visto volare Stava laggando anche a me C'è tutto State laggando tantissimo Eh stiamo vedendo Che lagghiamo Sentite Sì 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 ti sentiamo Ci sono stati problemi Ma il server lo sta tostando voi No 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 Il server è ostato Quindi può darsi che ci sia stato Un problema qui in Molise Infatti vedo laggare Sinergo Sì E noi siamo sullo stesso IP Quindi Sì È molto bella questa cosa Ok c'è stato Una botta Una botta fortissima di lag Che però sembra essersi risolta Ok Perfetto Quindi direi Questa la possiamo annullare Credite Ma io direi che comunque È valevole Diciamo Diciamo che è il bello della diretta No è vero È la parte finale Che laggiamo un po' Giustamente Cioè che ho rectato comunque Però Voglio fare il gentile No no Non si preoccupi Guardalo Guardalo Allora ci giochiamo la terza Senza lag Si spera E vediamo Almeno di Di non fare la figura Dei peracottari Per la terza volta Ok dai dai Vediamo Vediamo No aspetta 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 Quanti minuti Meno di tre Ehm 5 Fai 5 tu Non fare previsioni Prima erano 2 minuti e 50 Tipo 2 minuti e 50 Non posso fare arachiri Dovete venire a uccidere voi Perché Non posso fare Slash Ok mi tocca fare Slash Esatto Ok quindi ora Meno di 2 minuti e 50 Vai Strappati l'unghia Guarda che Se lo senti Lo senti come Allora questa volta Non ce la farai Ehm No no Adesso Ci nascondiamo noi Andiamo qui Andiamo in Andiamo in B Noi Si giusto Ok Eccoci Ci sono Si ritorna Ok noi siamo Chittati Perfetto Ah io no cazzo Mi sono invito a dipenderlo Ok chittiamoci tutti Ho ucciso Nid Ok ho preso il mio kit straniero E sono pronto a farvi il culo Ci spera Perché ti metti un fail Allora ci mutiamo fra 3 2 1 Buon game Ok allora Purtroppo abbiamo avuto quei problemini tecnici Eh si Forse ci avrebbe inquaduto lo stesso Ma magari Magari no Magari no Magari no Allora Io direi corriamo Sta correndo già verso di noi Ehm Nasconditi 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 Mi nascondo dietro la colonna Io Fallo passare Fallo passare Nasconditi Perché Si io mi sono nascosto sott'acqua Però Passima idea Cazzo 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 Esci 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 T'ha preso Cacchio Aiutami Stai dietro di me Ok Eccolo Ma non c'ho niente Non c'ho Non dobbiamo fargli fare il record del mondo Almeno quella Quando uscirà dall'adietro Lo aspetta Gira Preso Andiamo Andiamo Scappa Scappa Ok Eccomi Corri e salta Corri e salta Allora Basta Nasconditi Aspetta Vediamo qua che c'è Non c'è niente Non c'è niente Via 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 Aia Passiamo di qua Mi segui? Si si sono dietro di te Ok Allora Ibda ti appena entri Senti Non mi sembra che Dai 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 Qua c'è una cesta Qui mi sa Ci siamo già stati Mi sa che l'abbiamo già aperta Spero di no No E' pienissima Pozione di forza Devo bere la pozione di forza Immediatamente Ok Con la pozione di forza Possiamo farcela Questa è la cassa più 40% di velocità Vai vai Adesso Adesso c'è la Caro Surri Mi sa che stavolta Sono quarzi tuoi Dai abbiamo Abbiamo pochissimo tempo Ma questa è la pozione di forza Io la bevo Lentezza C'ho la lentezza Meno 15 Madonna quanto vado veloce Andiamo 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 Questa la lanciamo subito Andiamo andiamo Tanto lui Pensa di potercela fare Sì è convinto Sono sicuro che Dove cazzo è? Di qua di qua credo No No Non mi dire che si è nascosto Potrebbe aver subodorato qualcosa Potrebbe Non lo so Però ho preso solo una porzione Io Le altre le ho lasciate E dura un minuto Eccolo Eccolo Sta da sopra Eccolo Dai 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 Addosso 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 No Aia Ok non serve a un cazzo questa cosa No come cavolo è arrivato lassù? Non lo so come ci è arrivato ma Ma dai ma che iella No sta scappando Ok da qua dentro probabilmente No 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 non mi si apre la porta È bloccata No No dai Che palle Eccolo Trovato Arriva arrivo Ce l'abbiamo dai che modo Bella Sììììì schiattare la forza si si dice ho scritto è l'unico modo per battervi beh almeno una l'abbiamo vinta che cavolo va bene dai ci sta ci sta cioè voglio dire la vittoria è l'emblema se non vincino sesso vabbè è andata è andata male per noi ma bene verso il real grande grande però però abbiamo almeno difeso il nostro onore se non facevate manco la chi il finale era proprio da dar a chi lì esatto quindi meglio così meglio così non ci siamo mai aspetta un cappottone totale ce l'hanno fatto nelle prime partite che però non fa niente ci siamo difesi e noi ringraziamo tantissimo surri per aver partecipato trovate il link del suo canale in descrizione e potete vedere la sua visuale nella quale non sentirete le nostre voci irritanti ha detto tutto l'oro io ringrazio tantissimo per avermi invitato in questa loro serie e niente pioppottone totti